Buonasera, buonasera a tutti da Gianni Tanzarello, ancora una volta qui da Canale 7 per il nostro approfondimento, il consueto approfondimento per andare oltre la notizia, il programma ormai lo conoscete tutti perché è come ormai consuetudine, abbiamo il piacere di invitare, di avere nei nostri studi i nostri parlamentari, parlamentari pugliesi e questa sera abbiamo qui con noi l'onorevole Giuseppe Labbate del Movimento 5 Stelle. Bene, allora, onorevole Giuseppe Labbate, intanto buonasera, ben arrivato ai nostri studi e con lui ora ovviamente parleremo un po' della politica nazionale. Io volevo ricordare, certamente chi ci segue da tempo, è un volto conosciuto l'onorevole Giuseppe Labbate perché è stato candidato nel 2012, candidato sindaco per le amministrative di Polignano a Mare, rispondendo anche un buon successo personale e forse proprio grazie a questo successo probabilmente, anzi lo chiediamo insomma, è stato il candidarsi nel comune di Polignano a Mare che ha dato poi la possibilità di entrare nelle liste del Movimento 5 Stelle e poi a diventare onorevole. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori da casa, vi ringrazio per avermi invitato. Sì, l'esperienza delle amministrative è stata un'esperienza bellissima, abbiamo avuto un ottimo successo anche perché essendo unicalista, come ben sapete il Movimento 5 Stelle non fa alleanze con i vecchi partiti, però abbiamo avuto un grande successo, un 9% come preferenze al candidato sindaco, circa la metà per la lista, non sono riusciti a prendere un consigliere, però ci facciamo sentire in comune, il gruppo di attivisti è veramente molto attivo, porta avanti tante iniziative, fa tante proposte all'amministrazione, solo che siamo poco, ascoltati e questo veramente ci dispiace. Volevo chiedere, per quanto riguarda il rapporto con la città di Polignano a Mare, perché insomma, tra l'altro lo ricordiamo, Polignano a Mare ha due onorevoli, che sono entrambi del Movimento 5 Stelle, quindi la domanda è, insomma, avere per una città due personaggi che sono alla Camera, senz'altro deve essere motivo di vanto. Che rapporto c'è con l'attuale amministrazione di Domenico Vitto? Sì, noi a Polignano abbiamo la fortuna di aver espresso due rappresentanti in Parlamento, io e il collega, l'amico, Emanuele Scagliusi. La cosa che ci rammarica è che purtroppo non c'è rapporto con l'amministrazione, più volte tramite il gruppo dei nostri attivisti abbiamo avanzato diverse proposte, però non siamo stati praticamente mai contattati dall'amministrazione per nessun tipo di collaborazione. questo ci dispiace molto, anche perché io, essendo un componente della Commissione Agricoltura, credo che avremmo potuto collaborare ben molto, dato che ci sono il 50% di finanziamenti europei che l'Italia non utilizza, quindi soldi che rientrano nel bilancio europeo, di cui invece la nostra città, come tutto il territorio e tutta l'internazione, avrebbe fortemente bisogno, visto questo enorme momento di crisi che stanno vivendo. Noi abbiamo parlato proprio con un assessore di Polignano a Mare, ospite proprio di questo nostro programma, perché dell'elettrodotto Albania-Italia, che sembra ormai certo passerà nel comune di Polignano a Mare, c'è stato anche un ricorso al TAR, comunque il TAR in sintesi ha detto che si potrà scegliere un posto diverso da quello già previsto, però rimarrà nel comune di Polignano a Mare. Il parlamentare Giuseppe Labbate, che ne pensa? Le ringrazio per questa domanda, perché così possiamo un po' fare chiarezza e far sapere ai cittadini come è andata realmente la questione. Quando noi siamo arrivati in Parlamento, ci siamo ritrovati questa bolla che è scoppiata nel nostro comune, ci siamo ritrovati questo progetto della costruzione di questo elettrodotto, che dovrebbe partire dall'Albania per arrivare in Italia, sbarcare in Puglia e poi arrivare alla sottostazione di Terna di Casa Massima. E' un elettrodotto che dovrebbe portare energia fatta da una centrale a carbone in Albania verso la Puglia. Da storia del fatto che la Puglia produce il triplo del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, energia che però non viene utilizzata, ma questo è un altro problema che possiamo approfondire in un secondo momento. Ci siamo ritrovati quindi questa faccenda sul tavolo, ovviamente non siamo stati neanche contattati dall'amministrazione, io ho cercato di reperire tutti i documenti, ho presentato un'interrogazione parlamentare. Vedendo tutti i documenti sotto mano ci siamo resi conto che si sta facendo una grande demagogia, una grande disinformazione, perché da un lato c'è l'amministrazione con i vari partiti che dicono di essere contro l'elettrodotto, però poi carta alla mano si vede che tutti gli enti locali, quindi tutti i comuni, compreso il comune di Polignano, la provincia di Bari e la regione Puglia hanno dato parire favorevole alla costruzione di questo elettrodotto. E questa è stata anche la risposta che il sottosegretario De Vincenti mi ha dato qualche settimana fa, un mese circa fa, all'interrogazione dicendo che l'elettrodotto si farà anche perché a tempo debito tutti gli enti prepositi hanno dato parire favorevole. Quindi di cosa vi state lamentando sostanzialmente la risposta del sottosegretario? Tant'è vero che l'Enel ha fatto un contro ricorso poi al TAR e adesso vedremo quando andrà a finire. Molto probabilmente la centrale a carbone non si farà più in Albania, quindi l'Enel rinuncerà alla costruzione della centrale a carbone, però non si sa se rinuncerà o meno alla costruzione dell'elettrodotto. Bene, noi come sempre approfittiamo quando abbiamo i parlamentari, ripeto, pugliesi, per poi guardare anche alla politica nazionale. L'onorevole Giuseppe Labbate, come ho già detto prima del Movimento 5 Stelle, è stato nominato eletto nel 2013, quindi ormai un anno di esperienza. Questa esperienza, come l'ha vissuta Giuseppe Labbate e come la sta vivendo? L'esperienza è un'esperienza bellissima, questo senz'altro. Siamo entrati non sapendo come funzionava, come andavano le cose lì in Parlamento, però con una gran voglia, questa gran voglia di fare per il Paese ci ha portato a studiare. Io passo 12 ore all'incirca, anche di più, tra la Camera, la Commissione e il mio ufficio, perché ci studiamo tutti gli atti, tutte le carte, tutti i documenti che passano per cercare di essere sempre preparati su qualsiasi argomento è decreto, passi poi nella Commissione. A noi non piace essere chiamati onorevoli, perché noi ci riteniamo essere dei cittadini, anche se siamo onorati del lavoro che facciamo. Noi diciamo che l'essere onorevole ce lo si deve guadagnare sul campo, semmai a posteriori qualcuno diventa onorevole perché ha ben fatto il suo lavoro. Bene, volevo chiedere, l'ho già in qualche maniera riferito durante queste prime battute, fa parte della Commissione Agricoltura, una commissione importante, tra l'altro ho visto che in questa commissione c'era De Girolamo, tra l'altro ex Ministro dell'Agricoltura, c'è la parlamentare Lupo che ormai è diventata famosa per aver ricevuto un ceffone durante quella movimentata giornata alla Camera che ricorderete tutti. Insomma, nella Commissione Agricoltura che cosa si sta facendo per la Puglia? Ovviamente noi siamo un po' campanilisti, quindi essendo poi un emittente locale del territorio, ci piace sapere se si sta un po' favorendo quelli che sono i prodotti della nostra Puglia. Bene, nella Commissione Agricoltura appena siamo arrivati ci siamo occupati subito di quelle che sono le problematiche che gli agricoltori e quindi tutti gli operatori del settore hanno hanno sollevato, come ad esempio il problema dell'etichettatura e abbiamo presentato diverse proposte di legge, abbiamo presentato le proposte di legge sull'etichettatura, i cittadini devono sapere che la legge sull'etichettatura c'è una direttiva europea che va a regolamentare l'etichettatura, però in Italia mancano i decreti attuativi, mancano da anni i decreti attuativi. Che poi è il problema di tutte le leggi o disegni di legge? Abbiamo presentato anche una proposta di legge sull'articolo 62 che è in merito ai pagamenti, perché il problema degli agricoltori è che non ricevono i pagamenti da parte della grande distribuzione nei tempi dovuti di 30 e 60 giorni, abbiamo presentato una proposta di legge sul chilometro utile perché noi crediamo che le merci non debbano viaggiare ma devono restare quanto più vicini sul territorio, perché ogni territorio ha le sue peculiarità. Abbiamo presentato diverse risoluzioni, ad esempio adesso un compito, un lavoro molto importante da parte del governo è quello di dare una definizione di agricoltore attivo e di individuare quali devono essere i pagamenti accoppiati per quanto riguarda la nuova PAC 2014-2020 che si è conclusa, quindi entro giugno il governo deve prendere quelle scelte che sono demandate ai vari stati membri. Ci siamo buttati a capofetto nello studio di questa PAC 2014-2020 e abbiamo depositato due risoluzioni, una in cui diamo la nostra definizione di agricoltore attivo e quindi diamo quella che è la nostra visione di agricoltura che vogliamo per il nostro paese e martedì, quindi domani alle ore 10, terremo una conferenza stampa in una sala di Montecitorio in cui spiegheremo la nostra visione di agricoltura e qual è la nostra idea di agricoltura attiva. Insomma, bisogna di capire anche da alcune esperienze fatte da altri colleghi del Movimento 5 Stelle che nelle commissioni si lavora con gli altri colleghi e sono degli altri partiti e movimenti, si condividono ovviamente alcune proposte, però poi sembra, e questo mi viene rimproverato, che poi queste non vengono appoggiate e votate al Parlamento. È vero oppure è una propaganda, come dire, ancora una volta elettorale? Allora, questa è una delle solite propagande elettorali che fanno i partiti. Quello che gli italiani devono sapere è che in Italia non si fanno leggi da 15 anni. Il problema è che la nostra Repubblica non è più una Repubblica parlamentare, è solo sulla carta, perché c'è un abuso di decretazione da parte del Governo, quindi tutte quelle proposte di legge che sono depositate restano lì ferme nelle commissioni, perché il Governo fa continuamente i decreti di urgenza, andando anche contro l'articolo 77 della Costituzione. L'articolo 77 della Costituzione dice che il Governo ha la facoltà di intervenire tramite decreti di legge solo in caso di urgenza e che questi decreti di legge devono trattare anche un solo argomento, qui invece ci ritroviamo continuamente con il Parlamento completamente esautorato dei suoi poteri, dato che il Governo emana decreti continuamente, quasi giornalmente, concentrando quindi tutto il lavoro lì su questa decretazione e le proposte di legge non vanno avanti. I cittadini devono sapere che l'anno scorso proposte di legge venute fuori dalla Commissione Agricoltura sono state zero. Posso chiedere qual è il suo rapporto con Beppe Grillo e Casaleggio, perché insomma, anche perché poi volevo parlare anche di queste dimissioni dei colleghi 5 Stelle, cioè vi incontrate, c'è questa direzione o queste direttive se vogliamo, un po' in positive, qual è il rapporto che l'onorevole Giuseppe Labbate ha con appunto il numero uno, il leader del Movimento? Io non ho personalmente nessun rapporto con Grillo, non ho neanche il suo numero di cellulare, quindi immaginate un po'. No, noi non abbiamo nessun rapporto, lui viene, ci siamo incontrati due o tre volte credo dall'inizio della legislatura, dalla febbra dell'anno scorso e sostanzialmente siamo noi che decidiamo la legna in assemblia, noi facciamo assemblee continuamente, agli inizi ne facevamo una al giorno per cercare di capire come funzionava la macchina, adesso facciamo delle assemblee fesse settimanalmente oppure diciamo delle assemblee straordinarie nel momento in cui dobbiamo prendere delle decisioni lampo su alcuni decreti, su come comportarci, come voltare o meno e decidiamo tutta maggioranza, quindi siamo lì, ne discutiamo, poi d'alzata di mano, la decisione è presa dalla maggioranza di noi, quella viene portata avanti. Per quanto riguarda i senatori che si sono innessi… Questo è un argomento che ha tenuto vita ormai da una settimana, l'estromissione e poi le dimissioni, come l'avete vissuta? Come la vivete questa… Guardi, io ci sono le registrazioni, i video della campagna elettorale del 2012, io in campagna elettorale sui palchi dicevo che avevo preventivato che un 20% dei nostri eletti sarebbe andato via, ma questo è fisiologico, è normale, perché l'animo umano non cambia neanche il movimento. Quando ci si ritrova ad avere su un conto corrente 15 mila Euro al mese, diventa una tentazione ben forte, infatti basta andare a vedere tutti i rendiconti dei deputati, dei senatori che sono usciti per capire anche il perché sono usciti. Si chiama perché, il perché è questo, perché poi non sempre riusciamo a percepire la verità, perché forse non c'è tempo, poi la filosofia di Grillo è quello di non essere presente poi nella televisione nazionale, di Stato, eccetera. E quindi le verità che passano sono un po' trasversali e i cittadini fanno anche fatica a capire dov'è la verità e quindi abbiamo la possibilità di avere un rappresentante che vive all'interno di questa situazione. Insomma, il passaggio, il concetto che è passato è che questi signori hanno espresso nel momento in cui c'è stata quella famosa trasmissione in streaming dell'incontro tra Beppe Grillo e Renzi, hanno espresso il loro malcontento per come è stata gestita la cosa e quindi l'opinione pubblica è rimasta colpita più o meno negativamente per il fatto che esprimere un proprio pensiero possa essere poi oggetto di esclusione. E' così? No, non è andata così. Il discorso è che questi senatori puntualmente, dall'inizio della legislatura, ogni volta, e quasi in maniera chirurgica e in maniera puntuale, ogni volta che il Movimento 5 Stelle otteneva un risultato, faceva un'azione in Parlamento che fosse la salita sul tetto per la difesa dell'articolo 138 della Costituzione oppure la manifestazione che abbiamo fatto contro la sbendita, quindi il regalo di 7 miliardi in mezzo alle banche, puntualmente venivano fuori con delle dichiarazioni che andavano a sminuire e andavano anche contro a tutto il lavoro che avevamo fatto, quindi sostanzialmente sono stati loro che si sono autoesclusi. Ma c'è da dire che noi non abbiamo buttato fuori nessuno perché l'Assemblea mette alla rete, quindi a tutti gli attivisti, a tutti gli iscritti al Movimento, la decisione, se restare dentro oppure escludere qualcuno dal gruppo. Ma guardi, qui c'è da dire una cosa, qui ci dobbiamo mettere in testa che siamo in una guerra, ok? L'Italia non ha più tempo, abbiamo pochissimo tempo, i partiti si sono mangiati oramai tutti, hanno sbenduto tutto, sono le lobby e io le vedo giornalmente che sono fuori dalla commissione bilancio quando ci sono da prendere decisioni come ad esempio sulla legge di stabilità o quant'altro, ci sono lobbyisti, ci sono affaristi, ci sono le banche, allora questa è una guerra, noi siamo in trincea, dobbiamo vincere questa guerra con i cittadini per liberare finalmente questo paese, quindi non possiamo permetterci di avere alle nostre spalle qualcuno che invece di attaccare al nemico attacca noi stessi, quindi dobbiamo essere un gruppo forte e andare avanti per risolevare le sorti di questo paese, altrimenti siamo su un treno che sta andando ad altissima velocità contro un muro, quindi dobbiamo capire se rallentare questo treno, buttarci giù, scendere oppure schiantarci. I vostri sostenitori, cioè coloro che vi hanno votato, hanno lamentato in quell'incontro che c'è stato, quindi facciamo un passo indietro con Versani, quando Versani ha chiesto in maniera devo dire abbastanza ostinata al vostro movimento di essere appoggiato nel governo che si andava a formare, qualcuno vi ha riprovati perché probabilmente quella era l'occasione buona per dettare le condizioni, condizioni che ovviamente sono condivisibili, io penso che tutti i cittadini italiani vorrebbero toccare con mano la diminuzione dei parlamentari, la riduzione dei loro stipendi che possono essere legittimi fino a un certo punto, poi come sappiamo ci sono tutti quei balzelli che lo fanno diventare doppio e il triplo e quindi probabilmente l'esperienza eccetera. Quindi volevo dire, la gente si aspettava questo da voi, quindi pensate alla fine anche con Renzi, l'incontro con Grillo è stato già scontato, ci si sapeva che Grillo aveva già pronunciato che non dava, il Movimento 5 Stelle non appoggiava il nuovo governo Renzi, quindi è stato poi un braccio di ferro tra due leader che volevano dimostrare i propri muscoli. Pensate che in futuro se si andrà a votare, voi riuscirete, se avrete l'appoggio dei cittadini, a governare da soli? Ma guardi, noi abbiamo fatto una campagna elettorale, siamo andati in tutte le piazze d'Italia a dire che questa gente qui bisogna mandarla a casa e anche subito. Bersani non ha mai fatto una proposta al Movimento 5 Stelle, non ha mai chiesto al Movimento 5 Stelle di entrare nel governo e lui l'ha ribadito ben due volte in due o tre incontri pubblici, come l'ha ribadito anche la vicepresidente Sereni del PD ad una puntata di Porta a Porta. Loro semplicemente volevano che 20 senatori del Movimento 5 Stelle uscessero dall'aula per abbassare il quorum della fiducia ed avere così, far partire un governo Bersani. Ma come avremmo potuto noi rispettare la volontà dei cittadini che ci hanno quindi votato per mandarli tutti a casa e poi abbassarci a questi vecchi giochetti da vecchia Repubblica? Come facciamo noi a fidarci, dobbiamo ancora fidarci di persone che fanno le stesse promesse da 20 anni? Allora guarda, è molto semplice. Renzi, che dice di essere, che si spaccia per nuovo, dice di voler cambiare verso, poi verso, qual verso non si sa, è che però ha al suo interno la metà dei ministri del governo Letta, gli stessi sottosegretari, esattamente la stessa maggioranza, quindi non si vede il nuovo, 5 indagati all'interno del suo governo, mercoledì scorso noi abbiamo presentato un question time in aula in cui abbiamo detto, siccome lui durante la campagna elettorale, Renzi durante la campagna elettorale delle primarie diceva che i partiti dovevano essere puliti per dare ai cittadini, per dar fiducia ai cittadini e abbiamo chiesto cosa fate di quei 5 indagati? Ecco, il ministro Boschi è venuto in aula dicendo che non faranno assolutamente niente, quindi li terranno lì. Allora come possiamo noi fidarci ancora di queste persone qui? Ma tra l'altro se loro vogliono, possono da domani mattina, perché Renzi dice di voler tagliare il costo del Senato di un miliardo di Euro, a parte che è meglio che studi un po' perché il Senato non costa un miliardo di Euro, quindi se studiassero un po' lo saprebbe, ma basterebbe che domani mattina, dicersi suoi, di dimezzarsi lo stipendio come facciamo noi e di rendicontare a piedi listra tutti i rimborsi forfettari e versare nel fondo per le piccole e medie imprese che abbiamo fatto aprire, quindi per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese. Lo può fare domani mattina, perché non lo fa? Può portare in aula le proposte di legge sul reddito di cittadinanza che abbiamo depositato? Discutiamo su quello, discutiamo sull'abolizione dell'IRAP, altra proposta di legge che noi abbiamo presentato, perché non parliamo di quelli? Sì, quando si parla dell'IRAP, insomma, so che in genere chi ci ascolta potrebbe anche, come dire, se non ha un'attività e comunque non è nel settore, l'IRAP è purtroppo una tassa sulle imprese e sull'occupazione, che è un paradosso, cioè più dipendenti hai più sei tassato, cioè una di quelle cose, in sintesi ovviamente la vado un po' a sminuire, non è proprio così, però insomma è sostanzialmente questo. Va bene, noi oggi, in questa nostra serata, insomma abbiamo trascorso velocemente, non solo i 20 minuti, ma anche di più, ma devo dire, insomma, sentire dalla via voce di un parlamentare pugliese quello che succede al Parlamento penso che sia importante. Volevo chiudere velocemente con una battuta, insomma, la settimana scorsa la legge elettorale, le preferenze, questa è anche una delle grandi contraddizioni di questo governo, capisco gli accordi che ci sono, però insomma se l'80% degli italiani, secondo i sondaggi, gradirebbero avere le preferenze quando si andrà a votare, insomma, aver eliminato le preferenze mi è sembrato, come dire, un tiro di colpo basso. In questa settimana ancora interessante, che cosa si andrà a discutere e quali battaglie il Movimento 5 Stelle farà? In aula c'è proprio la discussione della legge elettorale, la settimana scorsa si sono votati alcuni emendamenti, si è votato proprio l'emendamento sulla rintroduzione delle preferenze e lì il PD si è praticamente spaccato, perché c'è stata Rosi Bindi che ha fatto un intervento in aula a favore delle preferenze, diceva io posso votare questa legge, posso votare questa legge elettorale solo se ci sono le preferenze, infatti per soli 20 voti l'emendamento però è stato bocciato, quindi Renzi si è dimostrato di essere un bugiardo, noi abbiamo votato a favore delle preferenze, noi siamo a favore delle preferenze e ci siamo sempre dichiarati, nel 2007 noi raccogliemmo 350 mila firme per una proposta di legge popolare chiamata Parlamento Pulito, in cui chiedevamo la rintroduzione delle preferenze nella legge elettorale, quindi noi vogliamo le preferenze, una legge elettorale, l'italicum che noi abbiamo ribattizzato come pro giudicatellum, dato che è stata scritta, è stata fatta da un condannato Silvio Berlusconi, in via definitiva, è un condannato in primo grado Matteo Renzi, in una stanza privata, quindi in una stanza di un partito privato, lì è stata fatta la legge elettorale con la supervisione anche di Verdini, la legge elettorale è la legge dei cittadini, non può essere fatta nelle segrete stanze per favorire questo o quell'altro partito, è una legge elettorale fatta per tagliare fuori il Movimento 5 Stelle, è una legge elettorale incostituzionale, perché è un'assurdità prevedere una legge elettorale che vale solo per una Camera, perché è in previsione il fatto che l'altra Camera sarà abolita, ma al momento c'è, quindi per una Camera vale l'italicum, per l'altra Camera al momento vale la legge elettorale che è venuta fuori dalla consulta, quindi se dovessimo andare al voto avremmo una maggioranza in una Camera e una maggioranza opposta nell'altra Camera, quindi sostanzialmente una pura follia, ma non lo diciamo, non lo dicono tutti i più grandi costituzionalisti, e poi non rispetta neanche la sentenza della consulta che aveva dichiarato incostituzionale il Porcellum sostanzialmente per due punti, quello delle preferenze e quindi anche nell'italicum le preferenze non ci sono, e sul premo di maggioranza e anche l'italicum dà un premo di maggioranza larghissimo anche a delle coalizioni che prendono molto meno rispetto a... Bene, noi a questo punto dobbiamo chiudere il nostro programma, devo dire che sentire il punto di vista di un rappresentante del Movimento 5 Stelle è senz'altro interessante, poi nelle prossime settimane ospiteremo anche altri parlamentari pugliesi che ci porteranno la loro esperienza e ci diranno un po' la loro visione e come vivono il mondo della politica nazionale. Grazie all'onorevole Giuseppe Labbata del Movimento 5 Stelle, il nostro programma termina qui l'appuntamento e a domani sera con un'altra puntata di Perché. Buonasera. 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 Grazie a tutti.